Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay Allora sono sempre io MrL e oggi siamo qui in questo nuovo gioco per telefono che ho trovato e che conoscevo già da un pezzo Chiamato Dictator 2 Allora ragazzi è un gioco molto particolare e anche hardcore potremmo dire Veramente molto difficile Dove noi saremo un dittatore e dovremo cercare di espandere il nostro potere in tutto il mondo diciamo E' un gioco che funziona più o meno a carte ma ci sono anche delle battaglie con le carte Insomma adesso vedrete E' molto difficile ragazzi In basso a sinistra potete vedere il mio dittatore ragazzi è tutto quanto super figo E ora vi spiego un po' come funziona Noi per ogni regione ci troveremo davanti a queste sei come dire sottofazioni diciamo Che sono la polizia, l'origarchia, il popolo, l'opposizione con gli anonymous, l'esercito e la mafia Noi dobbiamo cercare di come sul Regnese di come dire di far si che nessuno di loro ci olti troppo E se possibile anche di avere ottimi rapporti con loro perché se noi avremmo buoni rapporti con tutti quanti Per esempio se non abbiamo ottimi rapporti con l'origarchia Quest'ultima ci aumenterà di molti soldi che noi otterremo diciamo Quindi andiamo su Regn... ecco qua Regn Management E qui ora ragazzi siccome ogni regione ci costa un tot per essere mantenuta Dobbiamo potenziarci di 1 il petrolio che così facendo ci facciamo soldi Di 2 ancora il petrolio così facendo andiamo a 100.000 Infine così facendo noi guadagniamo se non vado errato 100.000 Però tuttavia ne perdiamo 100.000 per via del mantenimento della regione Che sarebbe tipo in Madagascar anche se si chiamano i nomi, hanno nomi diversi ora le città Ed infine ci compriamo la banca E come dire dovrebbe dare tipo una percentuale in più sui guadagni Quindi al posto di fare guadagnare 100.000 lui ci fa la banca e ci fa guadagnare O come si chiama? Banca, sì banca Ecco guardate qua ci fa fare il 5% in più di soldi per ogni azione che facciamo Ora torniamo indietro possiamo anche farci guardare le colpe e cose varie E andiamo a parlare con una delle 6 fazioni Io direi di fare, poi ci saranno anche da combattere ragazzi vedrete com'è Io dico intanto cerchiamo di rafforzare il nostro potere centrale che è il gioco molto difficile Quindi partiamo dalla polizia che è messa molto bene per quanto riguarda le carte da giocare sul campo di battaglia Perché più siamo messi ben bene con i rapporti con questa determinata fazione Più possiamo evocare le sue carte sul campo di battaglia Poi vedrete più avanti Qua ci chiedono Sono un po' di boiate ragazzi Sono imprevedibili a volte Condurre esercizi di addestramento Per disperdere i capi della protesta Vabbè in ogni caso questa roba qui ragazzi ha già capito Se diciamo di sì la polizia è felice E il popolo non è felice Vediamo ora che succede Eh infatti il popolo ci è andato persino a meno tre ragazzi Meno tre gli anonymous E meno uno la mafia Vaffanculo Bene Per ogni turno noi guadagniamo cinquemila tot Cinquemila monete Che sono pochissime ragazzi Ok quindi ora noi andiamo dal popolo Che è il popolo Non so se ci sarà il volume ragazzi Non lo so proprio Ordinare ai Ah ordinare ai banchieri Di poter prestare soldi gratis Se servono ai cittadini per il cibo Io dico di sì ragazzi Perché anche la mafia sarà arrabbiata Mi sa Cosa? 360 securi di antivirus Fottiti Pubblicità ragazzi scusate Eh infatti la mafia sarà arrabbiata Però gli anonymous Sono quasi tutti più felici Tranne l'oligarchia L'importante è avere buoni rapporti con la polizia Bene Quindi stacco il wifi ragazzi Stacco il wifi Via il wifi Via la connessione dei dati Bene Sono isolato del mondo ora E non mi arriverà più pubblicità È un trucco che conosco io Ok ora Ritorniamo a parlare con la polizia E poi dopo Se tutto va bene Andiamo a fare il primo turno Con Attaccando la nazione vicina Permettere alle prigioni Ah Tipo di Cichino Tipo di us Permettere alle guardie delle prigioni Di usare il lavoro forzato Anche per i propri Per i propri Scopi Cazzo ora il popolo Forse ci va giù Io dico di sì Neanche tanto Cioè sì È andato a merda Tutto quanto ragazzi Però bisogna farci amici Bisogna riuscire a farci amici Questa cassa di polizia Perché hanno carte forti Ora Ci abbiamo il popolo Gli anonymous Che sono messi giù Quindi facciamo passare Un altro Un ultimo turno E andiamo dal popolo Perché di solito Penso che gli anonymous Siano di per sé Quasi sempre contrari Alla polizia Quindi andiamo dal popolo Che magari A fare sì che Gli studenti universitari Possono visitare I musei Di musei Tipo Dei rettili La Gratis Io dico di sì Non Ecco qua Qui so già che fare Sì sì Lo so Come funziona Ecco vedete ragazzi Io Ecco cazzo gliene frega Perché l'origarchia Giustamente Tutta una pipa mentale Di sto gioco Sì però la mafia Cioè cazzo gliene frega Dalla mafia Di sta roba Ok quindi dobbiamo riuscire A farci amici Rifarci amici Eh siamo in crisi ora Rifarci amici La mafia E la Il cazzo che ti frega Di Cospirazione Gli spariamo immediatamente Ah bisogna costruire Una prigione Vaffanculo No è inutile Bisogna pagare ragazzi 300.000 Così facendo la situazione Torna A essere messa bene E ora dobbiamo Rifare la stessa cosa Cioè pagare soldi Anche per l'origarchia Non lo leggo Quindi anche qui ragazzi Che sono tutte boiate E con ciò Siamo strai negativo Va bene Va bene Porca troia È il momento Di attaccare Ora ragazzi Siamo già a 7 turni È il momento Di attaccare La Tarzania Sì 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 Inizia l'invasione Vai 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 Ok sì So già come funziona No No me le cerco io Le carte Oh i fioli I rex sono forti I cecchini Sono cazzuti E anche Madonna mia Sì lo so come funziona Ok quindi Il popolo Il popolo Ecco vedete Cioè Ognuna di queste carte Costano una x Se noi andiamo Dalla pulizia Vediamo che con loro Dovremmo avere più x Perché Abbiamo rapporti migliori Con loro Allora Ognuna di queste Chi ha un'abilità speciale Più o meno Questa qui cura Perché l'ho già giocato A gioco tempo fa Questo qui Ah ok Praticamente Il farmer ha l'abilità Come si chiama Provocazione Cioè che Il nemico Costretto ad attaccare lui Il taglialegna Da più Di attacco a tutte I nostri Le nostre creature amiche Mi sono spostato le cuffie Ho sentito i rumori No lascia perdere La Non toccare la Che se tocca più Chiudi Ok continuo ad andare avanti Bene Chiudi E poi ci abbiamo Il chiesto qua Il bullo E il bullo Ma non No non mi piace Direi farci Il taglialegna E Cavolo però Insomma Questo qui Il contadino fa schifo Quindi la veterinaia Qua Andiamo dall'oligarchia Che Neanche l'oligarchia Non è messa tanto bene Cioè Non ha carte fortissime L'elicottero Forse la carta Che vale di più Ci abbiamo la Ferrari Ok Sì Non ha carte forti L'oligarchia E Questo qua Il signor Smith Lo sapevo Ah Vabbè Io direi di farci Cavolo Ma fa tutto schifo Qua Cioè no L'elicottero Non ne vale per niente La pena Un po' di carte Sacrificabili Quindi No 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 Aspetta un attimo Via un signor Smith E ci riprendiamo La auto Bene Opposizione L'opposizione A carte fortine Ragazzi Rush Track Ok No non è Se proprio Prendete i miei consigli Che come walk Trogo Perché faccio schifo Sì ma più o meno So come funziona Per me Per l'opposizione Sono molto forte E' molto forte Questa carta qui Cioè il Green Guy Non ha nessuna abilità speciale Porca troia Basta cliccare lì Non ha nessuna abilità speciale Però è molto forte Con le statistiche Mentre l'Anonymous Ha uno scudo Che lo protegge Per il primo attacco No Green Guy Ragazzi Green Guy Green Guy Oppure mettiamo giù Green Guy Che ci facciamo due Anonymous Ecco La mafia Bene Sta qui Cosa faceva Dava tutte le mie creature Un scudo Quindi Questo qui è abbastanza forte Ragazzi Perché ha tanta vita E per quanto riguarda La polizia La polizia è utile per spammare i Rex Non costano niente Non costano niente Ma sono Come dire Sono forti Ecco qui Rex su Rex E abbiamo che schierato Tutto quanto Quindi ora E' momento di andare in battaglia Dovremmo vincere Sì 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 Qua è il mio Sì 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 Ci dà consigli Ma li ho già letti tutti Ho anche saltato i tutorial Noi siamo il dittatore a sinistra E a destra c'è il dittatore nemico Io dico di schierare quindi Un Rex Mi rimetto le cuffie Ragazzi Un attimo E lui schiera Sto coso qui Che ci dà un sacco di problemi Agitatore Cavro ci dà Come dire Ci fa Ci riduce l'attacco Il bastardo E ha anche tanta vita Anzi ecco qui Vedete qua Il cecchino Il cecchino è forte Perché cazzo Costa troppo Vabbè saltiamo un turno Ok bene Il cecchino è forte Perché dovrebbe riuscire a shottare Non solo il colpo Una delle due carte Bene Ho ucciso quello forte E ora lo usiamo È inutile Si può anche attaccare Il dittatore nemico Ma è inutile questo ragazzi Ora noi evochiamo Il Il cane Un anonymous E con il cecchino Noi attacchiamo O che attacchiamo Fanno schifo entrambi La puttana Dovremo shottarla Bene Via la donna E non possiamo schierare altro Non è sempre un bene Schierare ogni carta Ragazzi Non È meglio tenersela per riserva E basta col primo Il meditato Es Baldrack Ho bisogno di Questo qui Ragazzi come si chiama Il mafioso ciccione Il mafioso nero Il punitore Fa uno di danno Ogni volta che viene evocato A ogni nemico Quindi avremo Guardate quanto gli shottiamo Pam Shottati tutti E usiamo il cane Per attaccare Quest'auto qua Ok Hanno ucciso il nostro cane Evochiamo un green guy Ragazzi E mandiamo al massacro Questo povero Anonimus Contro Quest'auto qua Che avete visto La sua abilità speciale Consiste Nel evocare Altri motociclisti Evochiamo la veterinaia Qua L'infermiera Che dovrebbe curare Non ha toccato un cazzo Vabbè dettagli Ed evochiamo Ecco guardate Evochiamo il lamberjack Cioè il taglialegna Che aumenta Cosa? Ah no Dà più uno di health Di vita Non più uno di attacco Mi sono confuso io Vabbè Comunque è una cosa buona Questa Quindi Aspettate un attimo Questa carta qui Mi interessa Dà una delle mie catture Random Più 5 di vita Cazzo Se è forte il Macellaio Quindi io ora Consiglierei di Attacchiamo qui Lì non lo Sciottiamo Quindi attacchiamo qua Bene Ora il mio piano Consiste Nello Ma che cavolo Mai visti io Ste carte Sensei Il sensei Non dovrebbe dare Troppi problemi In ogni caso Io dico Usiamo Il punitore Che è già mezzo morto Per finire Il loro Bastardo qua Ed infine Usiamo il nostro Taglialegna Per ferire Il loro sensei Ci evochiamo Inoltre Questa donna qua Che ci dà Uno scudo A caso Bene Così facendo Se lui C'è la tacca Sopravvive comunque Evochiamo Signor Smith Che è inutile Che comunque Un rex Praticamente E saltiamo Il turno Ok Quindi Ora Noi con Mr. Smith Io direi di No 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 Tu muori E noi ora Evochiamo Visto che non ha più Carte Evochiamo Tutte le carte Che abbiamo Sul campo di battaglia E abbiamo vinto Ragazzi Ma abbiamo vinto Di poco Pam Finito Abbiamo vinto Abbiamo conquistato Questa nuova nazione Congratulazioni Congratulazioni Nato armata Ha vinto Siccome Sono genio militare Noi abbiamo Prenditi questa ricompensa Ottieni ricompensa Bene E qua potete anche vedere Gli altri dittatori Cosa ne pensano E ragazzi Quindi il gioco è tutto qui Ditemi se ne volete ancora Non lo penso Non in caso L'ho fatto più che altro Per farvelo vedere Più che altro Se vi piace Potete anche Caricarne Altri di video Come questo Ma questa partita Qui non dura Perché siamo A meno 100.000 Di soldi Per la Tarzania Qui noi Abbiamo delle situazioni Che per quanto riguarda Il popolo Fanno schifo Ragazzi Cioè Sono già Basta Basta Che una singola cosa Vada a puttane Sono tutti rivolta Cioè E' meglio Quindi Il gameplay Finisce qui E supportateci Con tutto quello Che volete Ciao a tutti ragazzi Ci si vede Al prossimo video